Una mostra fotografica che verrà allestita al Paricentro l'8 marzo, festa delle donne, curata da L'Appetite Yen. Una mostra che prende origine dal Marocco? Il viaggio in Marocco che feci a cavallo tra il 2019 e il 2020 mi diede uno spunto e quindi una volta tornata a Fano ho scoperto che esisteva un'associazione al Firiat e ho deciso di incontrarle, di intercettarle e da lì ho scoperto un nuovo mondo e ho capito che sono donne che hanno deciso di mettere il velo nel corso della loro vita per ognuna per le sue motivazioni, non se la vivono assolutamente come un'imposizione e non c'è assolutamente una sottomissione comunque ed è una libera scelta. Una delle interpreti della performance sul velo sarà da L'Associazione Alfiriat, come avete interpretato questo argomento che è molto molto delicato? Abbiamo deciso di dialogare con l'arte tramite le foto, l'immagine e anche l'azione per far capire e sensibilizzare che la donna musulmana c'è oltre chi porta il velo, non è semplice un pezzo di stoffa che lo metti sulla testa però ci sono delle convinzioni indietro e una porta che si apre sulla sua personalità, la sua identità e la sua dignità anche, specialmente quando decide di metterlo con la sua propria volontà e non sotto oppressione. Abbiamo fatto questa mostra e anche il performance in memoria di Mahsa Amini, la ragazza iraniana che è stata uccisa per colpa del velo, per dare voce anche agli ragazzi che sono stati oppressi per metterlo.